Tra alcuni giorni sarà inaugurato l'info point del comune di Pescara all'interno dell'aeroporto d'Abruzzo. Si tratta di una vetrina per far conoscere bellezze ed eventi della città adriatica e dell'intero territorio provinciale. Come hanno annunciato oggi alla stampa l'assessore comunale al turismo e grandi eventi Giacomo Cuzzi, il presidente della saga Enrico Paolini e il presidente dell'ente manifestazioni pescaresi Angelo Valori. Il punto informativo si trova al piano terra dell'aeroporto dove transitano ogni giorno circa 2000 persone e quindi avrà una funzione strategica, hanno evidenziato l'assessore Cuzzi e il presidente Paolini. Pescara ha bisogno di promuoversi, ha bisogno di promuoversi l'intero territorio provinciale e regionale e in questo contesto è importante accogliere ed indicare quelle che sono le bellezze e le possibilità che la nostra città offre. Era una linea di programma, quella di aprire più centri informazioni turistiche su tutta la città ed era una linea di programma e di mandato aprire all'interno dell'aeroporto. Per questo devo ringraziare Enrico Paolini, devo ringraziare l'ente manifestazioni pescaresi che già ha gestito i centri informazioni turistici nella città di Pescara e questo sarà sicuramente un luogo dove le persone che arriveranno potranno scoprire ancora di più la nostra città prima di arrivarci e potranno scoprire tutti quelli che sono i servizi. Inoltre l'idea importante è quella di coinvolgere anche i sindaci della provincia di Pescara non solo per venire e animare questo spazio, appunto per far conoscere tutte quelle che sono le eccellenze del territorio, le bellezze e le eccellenze anche enogastronomiche. Tra l'altro capita tra le nuove partenze e i nuovi arrivi nella zona nuova dell'aeroporto che oramai è completamente diverso dal passato, due gates nuovi con le partenze e gli arrivi. Quindi questo centro di informazioni è proprio di fronte e bisogna dare atto al comune di Pescara, all'assessore Cuzzi che lo ha fortemente voluto, che riesce a supplire anche a un discorso più generale, regionale e provinciale perché avere un centro di informazioni turistiche, una biglietteria, insieme alla biglietteria dei pullman e dei treni in questo bel box nuovo significa dare servizi ai passeggeri, stranieri in particolare e quindi far fare bella figura a Pescara e all'Abruzzo.